Ho fatto il video per 30 secondi, però non andava. Non avevo pigiato il rosso. C'è Borriello, ben ragazzo Borriello. Poi c'è mister Gianluca Vacchi, esperienza e testa. Cosa vuol dire? Poi c'è Arnaud da Miami a Beccasis. Giorgio, fammi sapere. Sivio, te non ti posso vedere se è ancora troppo grasso. Quando dimagrisci 30-90 kg, ti mettiamo un video per i nostri tifosi. Non posso, non posso. Hai Snapchat? No, questo va su Instagram. Non c'è Snapchat. Vedi com'è. Questo è Borriello. Cosa hai detto prima Gianluca? Batti. Cosa hai detto prima? Testa, esperienza e testa. Esperienza e testa.